Oggi è un giorno molto speciale, e non è un caso che tu sia qui. Dio ha un messaggio fondamentale per te, qualcosa di straordinario sta per accadere nella tua vita, e segnerà un cambiamento decisivo. Sei pronto per questa grande rivelazione? Nei prossimi minuti scoprirai cosa Dio ha in serbo per te, qualcosa che desideri da molto tempo. Ti invito a non perdere nemmeno un secondo di questo messaggio, perché Dio sta per parlarti in modo diretto. Non sottovalutare quello che stai per ascoltare, perché è essenziale e potresti pentirti di averlo ignorato. Dio ti mostrerà come presto riceverai le benedizioni che aspettavi, e la tua vita cambierà per il meglio. Le sfide e le difficoltà che hai affrontato finora non sono stati inutili. Dio ha visto ogni tua lacrima, ha ascoltato tutte le tue preghiere, e conosce i desideri più profondi del tuo cuore. Ora sta rispondendo in modo potente e straordinario, conducendoti verso un futuro che supererà tutte le tue aspettative. Immagina che ogni difficoltà sia stato un mattone che Dio ha usato per creare una base solida nella tua vita. Ogni sofferenza, ogni lacrima, ogni momento di sconforto ha contribuito a rafforzarti. Ora, su quella base, Dio sta costruendo qualcosa di nuovo e meraviglioso, aprendo porte che prima sembravano chiuse. Tutto ciò che ti sembrava una perdita, Dio lo sta trasformando in una vittoria. Le difficoltà che sembravano insormontabili ora stanno diventando nuove opportunità. Il dolore si trasforma in gioia. Accogli questa grazia e non ignorare i segni che Dio ti sta mostrando, perché questo è il tuo momento. Non è un caso che tu stia leggendo queste parole proprio ora. Dio vuole che tu presti attenzione a quello che sta accadendo intorno a te. Forse hai notato che alcune situazioni della tua vita sembrano essere orchestrate alla perfezione, come se qualcuno stesse guidando ogni tuo passo. Questo è Dio che sta lavorando dietro le quinte, mettendo le persone giuste sul tuo cammino e creando le condizioni per il tuo cambiamento. Forse hai avuto problemi finanziari, difficoltà di salute o relazioni complicate, e ti senti scoraggiato. Ma Dio vuole farti sapere che c'è speranza, e che sta usando queste prove per rafforzarti e prepararti a qualcosa di molto più grande. Dio parla in molti modi, attraverso le persone, gli eventi, i nostri pensieri e sentimenti. Presta attenzione ai dettagli e alle coincidenze, perché sono segni del percorso che Dio ti sta mostrando. Non permettere che la paura o il dubbio ti trattengano. Dio vuole che tu sappia che sei meritevole delle sue benedizioni. Ti ha scelto, ti ha dato forza, e sarà con te in ogni passo del tuo cammino. Oggi è un giorno speciale, e Dio ha preparato un miracolo per te. Questa è la risposta a quelle preghiere che hai fatto in silenzio, nelle notti in cui nessuno ascoltava. Dio ha visto ogni lacrima e ha ascoltato ogni parola. Ora è pronto a intervenire nella tua vita in modo straordinario. Dio è fedele, il Dio dei miracoli, colui che rende possibile l'impossibile. La stessa mano che ha diviso il Mar Rosso per gli israeliti, che ha guarito i malati e risuscitato i morti, ora si sta muovendo verso di te. Dio sta preparando qualcosa di incredibile, oltre ogni tua immaginazione. Nei prossimi minuti, capirai chiaramente quale speciale benedizione Dio ha in serbo per te. Prepara il tuo cuore, perché Dio sta riversando una pioggia di benedizioni su di te, e devi essere pronto a riceverla completamente. Immagina di svegliarti senza il peso delle difficoltà economiche, con il tuo corpo rigenerato e pieno di vitalità. Dio sta trasformando la tua vita in modi che superano ogni tua aspettativa. Lui sta curando ogni aspetto della tua esistenza, ascoltando le tue preghiere e rispondendo con amore e potenza. Conosce esattamente ciò di cui hai bisogno e sta preparando per te una benedizione che supererà tutte le tue speranze. Dio sta aprendo nuove opportunità, inviando soluzioni creative, connessioni divine e risorse inaspettate per soddisfare ogni tua esigenza. Visualizza la tua salute che viene ristabilita, la stanchezza e i dolori che ti impedivano di vivere pienamente stanno per essere eliminati. Dio sta rinnovando la tua energia, dandoti nuova vitalità. Lui è il grande guaritore e sta operando dentro di te, guarendo non solo il tuo corpo, ma anche il tuo spirito. Fratello, sorella, Dio ti sta benedicendo in modo straordinario. Ricevi questo messaggio con fede, sapendo che Lui ha il controllo di tutto e che il meglio deve ancora venire. È come se Dio stesso ti stesse parlando, dicendoti. Mio caro figlio, mia cara figlia, oggi sono il tuo Padre Celeste e sto parlando direttamente al tuo cuore. Questo è un momento speciale, creato apposta per te. Conosco ogni dettaglio della tua vita, ogni difficoltà e ogni vittoria, e sono qui per dirti che qualcosa di meraviglioso sta per accadere. Hai affrontato prove che sembravano insormontabili, momenti in cui la speranza sembrava svanire, ma io ho visto ogni battaglia e ti dico che la vittoria è vicina. Questo è il tempo del cambiamento e dell'apertura a nuove possibilità. Sto operando in modi che vanno oltre la tua immaginazione, preparando per te una svolta incredibile. Sei stato un esempio di fede e coraggio, e sono fiero di te. Ogni volta che hai scelto di seguire la strada della fede, della speranza e della gentilezza, hai compiuto la mia volontà. Ho grandi progetti per te, molto più grandi di quanto tu possa immaginare. Rifletti su tutto ciò che hai imparato finora, su tutta la saggezza che hai acquisito. Io sto moltiplicando questa saggezza, aprendo la tua mente a nuove idee e prospettive. Ti sto donando discernimento per prendere decisioni sagge, per scegliere la giusta direzione in ogni situazione. La tua capacità di apprendere e crescere sta ampliandosi come mai prima d'ora. Quando ti sentirai debole, ricordati che la mia forza si manifesta nella debolezza. Ti sto dando coraggio e forza per andare avanti, anche quando la strada sembra difficile. Ti sostengo nelle mie braccia e non sei mai solo. Questo è un tempo di gioia. Celebra ogni vittoria, ogni progresso, anche il più piccolo, perché tutto fa parte del grande piano che ho per te. Sei sul percorso giusto e io ti sto guidando verso un futuro glorioso. Ricevi la mia benedizione e il mio amore. Sto riversando su di te una nuova misura di grazia e favori. Questo è il tuo momento, il momento di vivere appieno tutto ciò che ho preparato per te. Sappi che tre grandi benedizioni stanno scendendo su di te e sulla tua famiglia. Queste benedizioni porteranno speranza, rinnovamento e prosperità. La prima è la benedizione della prosperità e delle risorse. Conosco le tue difficoltà economiche, le preoccupazioni per i debiti e l'incertezza per il futuro. Oggi sto aprendo i cieli e riversando le mie benedizioni su di te. Immagina di svegliarti libero dal peso del debito, con sicurezza economica e la capacità di realizzare i tuoi sogni. Sto portando nuove opportunità, aprendo porte che sembravano chiuse e creando vie dove non sembrava esserci alcuna soluzione. Sto inviando risorse che non avresti mai previsto, per soddisfare ogni tua necessità. Questa benedizione va oltre i beni materiali, include anche pace interiore e serenità. Ti sto donando la sicurezza che, qualsiasi cosa accada, avrai sempre ciò di cui hai bisogno. Sto togliendo l'ansia e la costante preoccupazione per il futuro. Ora puoi vivere ogni giorno con la certezza che sono io a provvedere per te, prendendomi cura di ogni dettaglio della tua vita. Sto aprendo nuove opportunità nel lavoro, negli affari e nelle collaborazioni che porteranno abbondanza. Ciò che una volta ti sembrava poco, ora sarà abbondante. Sto moltiplicando le tue risorse e benedicendo i frutti del tuo lavoro. Ogni sforzo che farai e ogni passo che compirai sarà ricompensato. Ti sto guidando verso opportunità che ti condurranno a nuovi traguardi. Immagina di poter pianificare il futuro senza timore, senza le limitazioni che prima ti trattenevano. Potrai realizzare quei sogni che sembravano irraggiungibili, aiutare chi ami e diventare una benedizione per gli altri. Ti sto donando la capacità di essere generoso, di condividere le benedizioni che riceverai e di influenzare positivamente la vita di molte persone. La prosperità che ti sto dando non riguarda solo i beni materiali, ma anche la sfera spirituale ed emotiva. Questa abbondanza ti riempirà di pace interiore, gioia e la certezza di essere sulla strada giusta. Ti sto guidando lungo il cammino della giustizia, offrendoti chiarezza in ogni decisione e mostrandoti il percorso da seguire. Presto vedrai la mia mano operare nella tua vita in modi sorprendenti. Quei sogni che avevi dimenticato e quei progetti che avevi abbandonato torneranno alla luce, accompagnati da nuove strategie e dalla saggezza necessaria per realizzarli. Dove c'era scarsità, vedrai abbondanza. Dove c'era aridità, vedrai prosperità. Sto trasformando la tua situazione finanziaria, portando stabilità, sicurezza e abbondanza. Ogni tua necessità sarà soddisfatta, e ogni desiderio del tuo cuore sarà esaudito. Credi che questo tempo di benedizione è reale, che le mie provviste sono sicure, e che sono fedele nel mantenere le mie promesse. Figlio mio, figlia mia, accogli queste benedizioni con un cuore pieno di fede. Questo è il tuo momento per vedere la manifestazione del mio potere nella tua vita. Rimani forte e fiducioso, sapendo che io sono la tua fonte di provvidenza. Ti proteggo, ti guido e ti benedico. Possa tu sperimentare la pienezza della mia provvidenza e vedere la mia prosperità riflettersi in ogni ambito della tua esistenza. Amen. La seconda benedizione è la liberazione dalle influenze negative. So quanto hai lottato contro pensieri pesanti, contro persone con cattive intenzioni e situazioni che ti abbattono. Ma oggi, ti libero da tutto ciò che ti impedisce di vivere pienamente. Immagina di svegliarti senza quei pensieri che ti fanno dubitare di te stesso, senza quelle voci interiori che ti dicono che non sei abbastanza. Sto eliminando tutta la negatività dalla tua mente, scacciando la paura e l'ansia, e riempiendo il tuo cuore di coraggio, fiducia e serenità. Non sarai più oppresso dal dubbio o dallo sconforto, ma avrai una mente rinnovata, una nuova prospettiva. Sto anche allontanando dalla tua vita chi non ti porta del bene, chi ti critica, ti abbatte o ti prosciuga le energie. Al loro posto, attirerò persone che ti sosterranno, che ti incoraggeranno e ti aiuteranno a crescere. Presto vedrai nascere nuove amicizie e relazioni sane, che ti rafforzeranno e ti arricchiranno. Porterò nella tua vita persone che ti amano davvero, che ti apprezzano e desiderano il tuo benessere. Oltre a questo, ti sto liberando da abitudini e comportamenti che ti danneggiano. Quei vizi e atteggiamenti che sai essere nocivi, ti darò la forza di superarli e cambiare, affinché tu possa vivere in modo migliore. Ti dono autocontrollo, permettendoti di fare scelte sagge e benefiche per te stesso. Anche i pesi spirituali verranno sollevati, quelle forze oscure che cercano di allontanarti da me e di toglierti la speranza. Sto rompendo ogni catena e rimuovendo ogni forma di oppressione spirituale. Ti riempirò con il mio Spirito Santo, dandoti la forza di resistere al male. Sentirai una profonda pace e sicurezza, sapendo che io sono con te. Ti sto liberando da tutto ciò che ti limita. Aprirò i tuoi occhi per farti vedere la verità, permettendoti di distinguere il bene dal male. Ti dono la saggezza del discernimento, così che tu possa fare le scelte giuste e non essere più ingannato o manipolato. Ti concedo la libertà di seguire il cammino che ho preparato per te. Figlio mio, figlia mia, accogli questa benedizione con un cuore aperto. Lascia che la mia luce illumini ogni giorno della tua vita e sperimenta la gioia e la pace di sapere che sei libero di vivere una vita piena e abbondante. Io sono con te. Andiamo avanti insieme con fede e speranza. Celebra questa nuova fase della tua vita, perché sei il mio amato figlio, la mia amata figlia, e ho grandi progetti per te. Che tu possa vivere in pienezza e sperimentare la mia liberazione. Possa tu vedere la mia mano potente guidarti verso un futuro luminoso. Dichiara con fede, sono libero da ogni influenza negativa e da ogni male. La terza benedizione è quella della salute e della guarigione. Sto portando nuova energia e vitalità nella tua vita. Immagina ogni cellula del tuo corpo rinvigorita. Le malattie che ti affliggono saranno rimosse, i dolori che ti tormentano alleviati. Io sono il grande guaritore, e la mia guarigione sta scendendo su di te in questo momento. Sentirai un nuovo vigore, una rinnovata motivazione per vivere ogni giorno con gioia e significato. Sto portando guarigione non solo al tuo corpo, ma anche alle tue ferite emotive. Conosco i traumi e i momenti difficili che hanno lasciato cicatrici nel tuo cuore. Oggi, ti dono pace mentale e serenità emotiva, sollevando il peso del dolore e liberandoti da tristezza e angoscia. Ma il mio intervento non si limita al corpo e alle emozioni. Sto anche risanando la tua vita spirituale, rinnovando la tua fede e fortificando la tua anima. I tuoi dubbi e incertezze svaniranno, lasciando spazio a una fiducia incrollabile nel mio amore e nelle mie promesse. Il tuo spirito sarà colmo di pace, gioia e speranza, e ti affronterai ogni sfida con forza e determinazione, sapendo che io sono al tuo fianco in ogni momento. Questa guarigione è totale, una trasformazione completa che inizierà dentro di te e si manifesterà all'esterno. Ogni giorno sarà un'opportunità per sperimentare il mio potere guarente. Credici, la mia mano è su di te e sto operando miracoli oltre ogni tua immaginazione. Immagina di svegliarti ogni mattina con nuova energia, senza il peso delle malattie, libero da tutto ciò che ti tratteneva. Avrai la forza di realizzare i tuoi sogni e perseguire i tuoi obiettivi. La tua vita diventerà una testimonianza vivente del mio potere di guarigione. Questa guarigione non riguarda solo te, ma anche la tua famiglia. Sto portando benessere anche ai tuoi cari, guarendo coloro che hanno affrontato battaglie simili. Anche loro sentiranno il mio tocco. Nella tua casa regneranno unità e pace, poiché sto eliminando malattie e sofferenze. Credici con fede e gratitudine, accogliendo questa benedizione. Ora è il momento di liberarti dalle catene della malattia, del dolore e della tristezza. Ti sto donando una vita nuova, piena e abbondante. Non c'è più spazio per la paura o il dubbio. Io sono il tuo padre amorevole e sto curando ogni aspetto della tua esistenza. Figlio mio, figlia mia, preparati per un'incredibile trasformazione, la guarigione è già in atto. Sentila, riconoscila, vivi nella mia presenza e nel mio amore che ti avvolge e ti risana. Questa è la mia promessa per te, una vita piena di salute, pace e gioia. Accoglila con tutto il cuore e vedrai quanto sono potente nel mantenere le mie promesse. Se credi in questo, dichiara con fede che tu e la tua famiglia state guarendo nel nome di Gesù. Adesso, apri il tuo cuore e ripeti insieme a me. Signore, sono pronto a ricevere le tue benedizioni. Fratello, sorella, in un mondo pieno di difficoltà, Dio è la fonte eterna della nostra fede incrollabile. Lui è il tuo rifugio sicuro, la tua roccia stabile, anche quando tutto sembra crollare. Dio è al tuo fianco, sostenendoti con la sua mano potente. Dio conosce le battaglie che hai combattuto e i pesi che hai portato. Oggi ti invita a dargli tutte le tue preoccupazioni. Egli è il tuo sostegno, il tuo provveditore, e sta soddisfacendo ogni tuo bisogno. Le sue benedizioni stanno scendendo nella tua vita. Non c'è nulla che Dio non possa fare, nessuna situazione che non possa trasformare. Sta aprendo porte che prima erano chiuse e creando opportunità dove non sembravano esserci. Ti sta conducendo verso luoghi di pace, abbondanza e gioia. Ogni tua lacrima è stata vista, ogni tua preghiera ascoltata, e ora Dio sta rispondendo in modi che vanno oltre la tua comprensione. Sta benedicendo la tua famiglia, portando riconciliazione, pace e armonia. Sta risanando le relazioni e guarendo ferite emotive. Dio è colui che unisce e ripristina l'amore e la comprensione. Le tue preghiere per la tua famiglia stanno trovando risposta e grandi cambiamenti sono all'orizzonte. Fratello, sorella, ricevi questo messaggio con cuore aperto. Credici, Dio è il Dio dei miracoli, l'onnipotente. Sta operando adesso, in questo preciso momento, trasformando la tua vita per il meglio. Mantieni salda la tua fede, confida in Dio e osserva come è fedele nel mantenere le sue promesse. Che l'amore di Dio ti avvolga, che la sua pace ti riempia e che la sua gioia ti fortifichi. Andiamo avanti insieme, pieni di speranza e fiducia, verso il futuro luminoso che Dio ha preparato per noi. Ricevi le benedizioni di Dio, vivi nella sua grazia e guarda come la tua vita sarà trasformata. Dio ti benedica, fratello, sorella. Che ogni giorno sia una nuova opportunità per sperimentare il suo amore e la sua protezione. Celebriamo insieme le meraviglie che sta compiendo. Amen. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere ogni giorno messaggi di benedizione e rivelazione. Rimani vicino a Dio e ci vediamo nel prossimo video.